Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi facciamo vedere gli ultimi oggetti che ci sono stati forniti e sponsorizzati dalla Army Painter, con cui collaboriamo ormai da più di un anno, e che ringrazio di cuore immensamente per aver scelto, per averci dato soprattutto fiducia, che è la cosa più importante, e aver scelto di portare avanti questa collaborazione. Ci hanno mandato molta roba nuova, come vedete qui davanti, che veramente è un onore disumano, quindi grazie di cuore. Ci sono un po' di pennelli, un po' di set di colori, e un set per basette, che aveva richiesto mia moglie, perché iniziando a fare tanto modellismo, sia per hobby, per passione, ma anche e soprattutto per lavoro, voleva qualcosa con cui iniziare a costruire un pochino di basette, un pochino più appariscenti, adornare e decorare un pochino più di, appunto, le basette, per fare sempre più belle possibile. Questa è la roba che abbiamo ricevuto, e ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Visto che in questo video qui non c'è tantissimo di cui parlare, alla fin fine lo vedete davanti direttamente, cosa siamo andati a prendere, e visto e soprattutto che questa roba qui ci fa il video il nostro amico e collaboratore Pippo, ci farà un video direttamente lui, dove ci farà un unboxing e vi farà vedere soprattutto i pennelli per il dry all'opera, e poi vi farà vedere questo set di colori per Zombicide Invader, mentre invece qui davanti di questi due oggetti, ora vi facciamo l'unboxing e vi facciamo vedere nel kit per le basette che cosa c'è dentro, e soprattutto in questa figata qui davanti che è il set di colori per Zombicide seconda edizione. Vi ricordate nel video presentazione che vi ho fatto di Zombicide seconda edizione, vi ho detto che uno degli stretch goal, furbata, che qualcuno non ha apprezzato, però secondo me a livello di marketing è una furbata. Il Rick Grimes di questa ambientazione, il poliziotto, lo sceriffo, Phil, ve lo ricordate quello col fucile a pompa bellissimo, non c'è nel gioco, non ce l'hanno messo perché era uno stretch goal del Kickstarter, ma comprando questo set dell'Army Painter all'interno c'è la miniatura, quindi anche se non ce l'avevamo e non abbiamo fatto il Kickstarter siamo riusciti comunque ad avere Phil e siamo contentissimi perché io senza lo sceriffo non gioco. Ci sono ovviamente un po' di colori che poi vi facciamo vedere, le varie tonalità che sono i colori principali per andare a fare Zombicide della seconda edizione e ci sono tutti quanti l'arancione, il nero, insomma i colori più spiccanti, diciamo vivaci, con cui andare a dipingere le miniature per come le vedete poi alla fin fine sulla copertina, sulla propria carta, sul disegno. E di qua i kit per le basette, ma ve li faccio vedere da vicino e vi ripeto, del kit di Zombicide Invader e Dry lascio la parola al mio amico e collaboratore Gianrico che ci farà appunto uno o più video dedicati. Chi fa modellismo lo saprà bene al pari nostro che comunque questi kit se ne vede di tanti tipi, se ne è vista anche degli italeri nei negozi di modellismo, ma non per forza negozi di modellismo legati a un gioco da tavolo wargame, ma anche per fare modellismo puro, tipo una cittadina, ferrovie, binari, cose del genere, treni, e sono veramente molto interessanti perché all'interno, nel caso di questo qui, c'è un po' di ghiaia, ad esempio da mettere sulle basette, c'è la colla, ovviamente c'è un po' di sughero, c'è un po' di erbette varie, così da fare delle basette di tutti i tipi, non per forza woodland o comunque roba boschiva, ci si può fare veramente qualsiasi cosa. Adesso apriamolo, qui ad aprire le scatole, le rompo le scatole, eh amore, però ad aprirle insomma è stato bravissimo, e all'interno vediamo intanto, prima di tutto, un librettino dell'Army Painter, una guida dimostrativa, tra l'altro è ben illustrata, pagine lucide, mi calma andrà a morire, quando ci fanno anche manuali di solito è una figata disumana da sfogliare e da leggere, e sono guide illustrative che vi fanno vedere come usare i loro prodotti al meglio, poi tutte quante le tonalità dei colori, insomma è il classico librettino per ordinare. In questo set compreso nel prezzo c'è una colla vinilica, tipo la Vinavil, da 50 ml, che questa è direttamente compresa nel prezzo, vi serve ovviamente senza questa non potreste lavorare, insomma è un bel flaconcino col classico beccuccio da modellismo, e il tappino per andarla a chiudere. Poi ci mettono sempre ovviamente un bigliettino di ringraziamento, per l'acquisto appena fatto, thank you, e poi vedete tutto quello che vi ho descritto e che avete visto sulla copertina, che sono un po' di sugheri, un po' di erbetta, piccoli ciuffi d'erba, tra l'altro bellini, bellini, bellini da morire, mi piace guardare un pazzino, non c'ho manualità, però capisco lei, mia moglie, che ci si è innamorata di questa roba, un po' di muschio, e questa invece serve a darvi l'allegria! No scherzo, questa era brutta, la tagliamo o la lasciamo? No, comunque questa è per fare l'effetto neve, e questo è Terriccio e Ghiaia. E ancora qui sotto, un altro librettino, con tutta la tavolozza di colori, con i nomi per ordinare dal loro sito, e poi un altro libretto che vi fa vedere tutte le cose che potete ordinare direttamente dal sito dell'Army Painter. Adesso passiamo al set di colori, gemellato con Kmon, appunto come vi ho detto dell'Army Painter, di Zombicide seconda edizione, e se non siete riusciti a fare il Kickstarter, e come Stretch Goal avere l'agente di polizia, Phil, lo trovate direttamente dentro questa scatolina. Quindi vi basta acquistare questa scatola, così avete anche tutto il set di colori per dipingere tutto quanto Zombicide seconda edizione, gioco base, e avete anche l'agente di polizia, Phil. Sempre il famoso librettino, come vi ho fatto vedere anche nella scatola del kit per le basette, che è lo stesso, è il catalogo, praticamente è il catalogo loro, ed ecco qui la carta dello sceriffo Phil, che veramente non ci fosse stato lui, io non avrei giocato, ci deve essere per forza, perché è il mio Rick Grimes della situazione. Poi, tavolozza di colori, un altro mini opuscoletto sugli ordini da fare, e tutto quanto, e poi qui, qua dentro vedete, ora ve lo faccio vedere meglio da vicino, tutti quanti i colori, che appunto sono quelli del set, qui ad esempio vediamo lo Strong Tone, per il set della seconda edizione di Zombicide, sono ben 20 colori, guardate là quanta roba c'è, il solito è in chiudo di ringraziamento, sono ben 20 colori, e più anche un pennellino, direttamente per iniziare, tra l'altro appunto a finire, per iniziare subito a dipingere le vostre miniature, ed eccolo qua, il maledetto scampato all'edizione Retail, ordinabile ormai da nessuna parte, ma che era compreso nel Kickstarter, ed eccolo qui, io più contento che mai, ve l'ho detto, senza lui non mi sarebbe sembrato di giocare a Zombicide, senza Phil non è Zombicide. Se volete ordinare tutta questa roba, primo link in descrizione, direttamente dal sito ufficiale dell'Army Painter, e potete acquistare tutte quante queste cose qua giù, colori, nuance, roba per fare il kit base, come avete visto qui davanti, pennelli, noi li ringraziamo veramente di cuore, per averci mandato tutto quanto questo materiale, e soprattutto di credere ancora in noi, per mandare avanti questa collaborazione, che ormai va avanti, io ho detto un anno all'inizio, ma ho sbagliato, so è un uno e mezzo, quasi due, perché va avanti dall'inizio del canale, quando ci fecero, ci mandarono il primo kit, se vi ricordate un vecchio video, quello di Dungeon & Dragons, con l'orso gufo bellissimo, e siamo molto contenti, che questa cosa possa andare avanti, quindi ragazzi, dateci un'occhiata, perché a livello di colori, altre cose, kit per fare le basette, quant'altro, colle per modellismo, sono veramente al top, grazie di cuore, e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao alla prossima!